Noi abbiamo necessità di vedere un po' il fenomeno a livello generale, cioè quello che sta capitando per quelle che sono le nostre prerogative. Però ripeto, adesso dare dei giudizi è abbastanza complicato perché ci mancano dei pezzi. Quindi voglio dire, se io avessi dovuto dire delle cose prima di entrare qui oggi avrei detto delle cose, oggi ne diremo delle altre. Per cui aspettiamo di avere un quadro completo e poi venerdì diremo qualcosina, sapendo che ci sono delle cose che non è che si risolvono in un paio di giorni perché ci sono delle versioni anche diverse. Questa mattina incontro con le associazioni ambientalistiche, cosa è emerso? Abbiamo ricevuto tutta una serie di indicazioni, alcune cose che erano note, alcune meno. Un quadro che emerge preoccupante per quanto riguarda il controllo del pubblico.